Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ascolta Anna, avete capito? Tutto sicuro di questo anno va accadendo? Non vorrò anche più un euro, sei non faticato, avete capito? Sei non faticato, non vorrò anche più un euro, avete capito? Forza vota! Anzappa la terra tutti quanti! Forza! Anzappa la terra! Forza come si deve! Anzappa la terra e pagare le tasse come fanno tutti i cittadini onesti italiani, avete capito? Il bonus non ricevete più! La benzina diminuirà! Sarebbe un paese, sarebbe un paradiso fiscale dell'Italia Invece no! Ci sono gli affaristi e i truffatori e gli imprenditori che non pagano le tasse! Hai capito? Voi, voi che state lì seduti che non fate un cazzo dalla mattina alla sera! Fate qualcosa per questo paese! Sì! 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 Sono Marco Tiberna! Salve Sì sono io Salve Sì Sì abbiamo visto Che il pagamento è stato effettuato Ma purtroppo C'è una brutta notizia In che senso mi scusi Non possiamo procedere Con la spedizione del prodotto Perché noi non consegniamo nel napoletano Ma слушami Sanduce Ho fatto Sanduce Fas la fambocca Ma non ce l'ambe Why? Ma non ce l'ambe Ma non ce l'ambe Ma è fa nostra Ma è tutto Ma va tra gassati La matrino Ma chiede l'asso Ma ho chiesto Ma era l'asso Attraverito Settula Settularito Settularito Porta Settularito Settкую Giusti einen すごい ma io io non faccio uno screen dopo lo screen dopo lo screen ok mamma mia don arnolfo ha posato i soldi in 2 euro buongiorno maestro spero che la sua giornata vada al meglio grande don arnolfo ciao bello io vi benedico del nome del padre del figlio e dello spirito santo ame tutti sappiamo che il tappeto del maestro signor Gischianto si scammerà si scammerà come tutti sappiano hanno detto che la trattazione è ricevuta ma la spedizione non è mai partuta proprio qui a Roma da la Breda Fitness che ha scammato il nostro maestro una preghiera per il nostro maestro quindi vi benedico del nome del padre del figlio e dello spirito santo pregate e drogate no vi dico no noカd anthropologo no 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 vi dico vi dico mi guiccio è niente eh niente io mi posso mettere il tuo cazzo voglio I niente BORCO DIO BORCO DIO BORCO DIO no non vale questo no non vale non vale se stai appicciando il microfono no non vale se stai appicciando il microfono no non vale porco dio che ci vedo la macchina ecco possiamo stare con lei adesso vi accompagno dal vicepreside vi assegnerò un gruppo bisogna cercare delle pietre sono di colore viola tu hai gli occhiali dovessi anche vederci meglio sicuramente però non mi prende il giro cosa cosa? no niente però non mi prende in giro no non la prendo non la prende in giro con gli occhiali ci viene meglio di me sicuramente e questo si è sicuro venga venga se io sono ridere andiamo ragazzi c'è veramente poco da ridere lo assicuro per i prossimi mesi avevi da fare no no e allora oddio oh no anzia anzia oddio aspettate prima di tonare asicura oh yo 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 Ili tira per te ha posato i soldi 24 ore un giorno Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Maestro Maestro Sono sette giorni In questo momento Ma ecco l'italo Harry Potter e il principe puttelano wey Anna ciao bella bocino grazie per 200 bit grazie grazie mille l'ognomo e sto preparando il pesce ma porca puttana porco dio porco dio porca madonna no vabbè ma allora aspetta un attimo questo qua così ok vediamo questo ma lo stavo dicendo eeeh andavanti non incominciare che ti banno frate ho detto sto cominciando a bannare persone che stanno a prendere il cazzo ti avverto vieni bannato frate te lo dico secondini vieni bannato quindi su cazzo le due almeno mi scassi su cazzo stasera e non cominciamo ok non incominciamo eh fermi chi va fiam 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.